ciao ragazzi siamo sempre noi del team beluga stefanuzzo impastato come un iguana come sempre ci sono io e abbiamo preso oggi una macchina a noleggio con conducente non so se lo riconoscete questo conducente è un filippino di 64 anni portati benissimo mettergli le mani già che sta guidando lo prendiamo un attimo per i coglioni oggi è il 7 agosto 2014 quindi è da poco passato il gran premio di lumezzane e il 7 agosto adesso vi facciamo una bella domanda sbilanciati lo caricheremo solo dopo l'ultima gara di mondiale chi vince il mondiale quest'anno sono e chi non vince il mondiale non si è felice? non si è felice non si è felice In bad mistakes, I've made a few I've had my share said kicked in my face But I've had the rest We are the champions, my friends And we'll keep on fighting to the end We are the champions LA CONNECIORO NEPOLITI NUMBER UNA CHAMPION 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 È stato un giorno molto difficile, perché tutto il giorno ho preso, ma non ho una sensazione con il bambino, con il grano. Ho dato il mio cuore nei ultimi due test e ho ricevuto questa competizione. Non posso capire. E' un'emotione, sinistra, e un'emotione. Non so, non so. Non so. Questa è la Jewsة, amici, amici. Ma siamo le voori, ho miei E amici Keep on fighting to the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world Signore e signori Abbiamo un'intervista speciale questa sera Abbiamo qui Davide Sorecca All'interno del carrello della Penny Market Cappolotto col di... ...